Bene ragazzi, vi faccio vedere oggi come aggiornare il vostro Nord Eletro 6D, se ce l'avete, oppure anche gli altri Nord. Alla fine il sistema operativo è sempre lo stesso, quindi si può aggiornare nello stesso modo anche se tu hai una Nord Stage. E ho visto che non ci sono tutorial di come fare, magari uno che l'ha appena acquistata, ha paura di fare qualcosa di sbagliato e giustamente non vuole rischiare. Perciò vediamo come si fa. Ok, allora vi lascio già il link del sito della Nord perché dovete dare lì per fare l'installazione. Allora, una volta che siete sul sito della Nord andate qua sul sistema operativo più recente, qua a destra, oppure nella finestra download qui sopra, vedete? Ok, quindi se non lo vedete qua sicuramente ci sarà lì. Quindi questa è qua la versione che hanno fatto a giugno del 2019, d'accordo? Perciò ci clicchiamo sopra, ti dà l'opzione di scaricare la versione per Windows oppure per Mac. Quindi io tolgo la traduzione, se no... ok, così vedete meglio, giusto? Vedi? Update Nord Eletro 6, la versione del sistema, versione 2.12. Ok, quindi scaricate questa. Come vedete qua ti dà l'opzione, la salvi dove vuoi, nel tuo computer, poi la fai andare. Ti clicchi sopra, lascio verificare un secondo. Ok, e poi viene fuori questa finestra qua. Ti clicchi due volte sopra. È come se fosse un'installazione di un software normalissimo, ok? E lui mi dice qua. Nord Eletro 6, versione 2.12. Nel mio caso, perché io ho già fatto questa cosa qui, perciò non la devo rifare. Però nel vostro caso dovete solo pensare che è semplicemente fare un update. Quindi una volta che avete collegato la tastiera con il Mac, non dovreste avere problemi. Non dovreste avere problemi, ok? Perciò basta cliccarci qua su update. Il mio non lo farà perché è già fatto. Però lui cosa farà? Si ripristinerà da solo. Vediamo, proviamo a farlo insieme. Vediamo se riesco. Faccio l'update. Ecco, vedi cosa succede? Il Mac inizia a fare questa cosa qua. Ti viene fuori questo nome. Dice che sta ripristinando tutto e che è pronto per l'update, no? Il mio, siccome ovviamente è pronto per l'update, vedi che non mi dà questa opzione. Quindi io cosa faccio? Lo spengo, ok? Senza paura, ok? Lo spengo. Riaccendo. Chiudo il programma. Ok, sì. Il Nord si sta riaviando, come vedi. Ok, una volta che è aperto, ci riclicco sopra. Questo è solo per farvi vedere ovviamente, perché il mio è già aggiornato. Poi una volta fatto questo, faccio update. E lui mi viene fuori con lo stesso messaggio di nuovo. Ecco, vedi? Nella seconda volta ce la fa a farlo. Quindi sta liberando tutto lo spazio nel Nord. Ed è questo. Non c'è nient'altro da fare, ok? Mentre lui lo fa, vi chiedo giustamente di darmi una mano. Aiutatemi iscrivendovi al canale, se volete altri video come questi. Datemi anche un like, così mi aiuterete a condividere questo video con altre persone che utilizzano la Nord. Ok? Quindi, adesso viene fuori questo messaggio qua. Il Nord si sta riavviando, come vedete. E una volta fatta questa procedura, ha posto. Update completed. Ok? Quindi l'aggiornamento è stato fatto. Chiudi e via. È già aggiornato. Va bene? Quindi, ragazzi, questo è stato un video veloce per darvi una mano. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!